Obbligo vittoria per il Pescara domani alle 14.30 allo stadio adriatico contro il Potenza. Ha parlato questa mattina in conferenza stampa il tecnico Biancazzurro Alberto Colombo ha proprio sottolineato l'importanza di ritrovare i tre punti e di ritrovare quell'entusiasmo per far placare un po' la delusione dell'ambiente. Giocheranno sicuramente i nuovi arrivati Merola nel ruolo di esterno alto a destra e Raffià che andrà ad agire nella sua posizione preferita quella di trequartista perché subito i nuovi in campo ha detto Colombo in conferenza proprio per cercare quella spensieratezza e quella leggerezza che magari gli altri giocatori in questo momento di difficoltà non hanno. Andiamo allora ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Biancazzurro con le immagini di Diego Martelli. Come stanno i ragazzi dopo la partita sul facile terreno di gioco di Viterbo? Chiaramente scherzo. Come sta Merola? Qualche eventuale indisponibile? Grazie. E' chiaro che è la terza partita quindi abbiamo bisogno di forze fresche. La squadra abbiamo cercato di fare un lavoro prevalente sul recupero. La squadra non ha nuove defezioni se non quelle di Mora e Pellacani oltre che di Gozzi. Quindi questi sono il messaggio che arriva da questi tre giorni di allenamento. Quindi tutti a disposizione i soliti e ci predisponiamo a fare una partita con... Mi ripeto, perché trovare delle cose nuove oggi diventa difficile ma c'è solo un obiettivo in testa. Poi dobbiamo renderlo pratico e lo sappiamo tutti che è quello di cercare di fare una vittoria che ci manca da tanto tempo in casa. O meglio, l'abbiamo fatta sì con la Viterbese ma dare continuità a quella vittoria sarebbe stata utile. Oggi ci ritroviamo a dover ripetere queste cose perché i punti fatti nell'ultimo periodo sono pochi. Ma ci aspettiamo anche una freschezza mentale da parte dei nuovi, da Merola che sta sicuramente bene, da Raffià che ha già dato un apporto, che siano contagiosi per il resto della squadra e che il resto della squadra sia stimolata dal periodo negativo del voler uscire il prima possibile con determinazione e con rabbia. Perché è chiaro che quando i tuoi tifosi manifestano il disappunto deve nascere anche della rabbia dentro di noi e dell'orgoglio per poter ritrovare quello che era il feeling, che è poi un obiettivo, un sottobiettivo ma unito a quello della vittoria. Perché senza punti, senza vittorie diventa difficile poi guardare avanti in tante direzioni, dall'aspetto della classifica all'aspetto sicuramente non secondario del ritrovare il feeling con la tifoseria. Due battute sul Potenza, una squadra che viene da quattro golle subiti in casa, non so se è una disposizione Murano che è uscito presto nell'ultima partita, che partita si aspetta anche lì leggendo un po' le crone che potrebbero cambiare tanto e tornare al 4-3-3? Sì, è una squadra che sta cambiando spesso disposizione, magari a gara in corso, ha adottato più sistemi di gioco, magari con una base, con una linea 3, poi ha variato, a volte è ritornata con la linea difensiva 4, quindi ci aspettiamo di tutto. È una squadra che ha nel DNA la voglia di fare gioco, di palleggiare, perché guardando i dati è sempre stata una delle squadre con la più alta percentuale di possesso palla. È una squadra che ha perso pochissimo e ha pareggiato tanto, ha vinto pochissimo ma ha pareggiato tanto, quindi vuol dire che ha molti valori simili agli avversari, perché evidentemente le partite, salvo rare eccezioni, le tiene in bilico, per cui è una squadra da rispettare come tutte le altre, organizzata come ormai ci siamo resi conto che lo sono tutte in questa categoria, non esistono più squadre che sotto questo aspetto concedono qualcosa. È una squadra che magari in questo momento, visto la prestazione deludente come la nostra col Foggia, avrà le antenne dritte per cercare di portare a casa un risultato positivo. Quindi sicuramente non possiamo commettere l'errore di pensare che sia semplice o facile, visto il nostro momento e soprattutto anche dal fatto che hanno, anche per loro, si arriva da una settimana o meglio da un mercoledì non semplice. Mesi che sta migliorando settimana dopo settimana, credo che tra virgolette gli abbia beneficiato anche il fatto che tutta sia stato ceduto in termini di ambientamento e spiego. Lui si è fatto forte di Lubo come traduttore, quindi a oggi si deve rimettere lui da solo a cercare di capire la lingua, a cercare di vivere in un contesto senza un appoggio e questo sicuramente gli dà uno sprone per ambientarsi ancora fuori dal campo in modo più rapido e più veloce. Dal punto di vista calcistico, credo che si stia adeguando a quelle che sono le richieste, soprattutto a livello difensivo del nostro modo di pensare, non inteso modo di pensare del Pescara, ma italiano, quindi si sta adeguando a questo ed è in crescita, quindi credo che nel giro di poco tempo possa essere preso in considerazione per scendere in campo. Colai è chiaro che potrebbe aver subito un contraccolpo mentale, avrà bisogno, secondo me, di qualche giorno, non di più, perché poi è un giocatore che ha capito la situazione, l'aveva accettata, quindi di trasferimento in un'altra società, sa benissimo che per situazioni particolari non è andato in porto, ma oggi non viene escluso a priori per quello che poteva essere e non è stato, viene aspettato e potrà essere e tornare utile il prima possibile. Su questo, diciamo, possibile nuovo assetto che è venuto fuori dal mercato, intendo il 4-2-3-1 o 4-3-3 con Rafià che potrebbe andare sotto punta, quando tornerà Mora, mi auguro domenica prossima, non so se sta meglio il giocatore, un eventuale 4-2-3-1 con Mora centrocampista centrale, è troppo, troppo offensivo o con il giusto atteggiamento, come diceva poco fa lei, si può supportare anche questo? È chiaro che bisogna provare, vedere e trovare gli equilibri, sono anche concordo con il fatto che se tutti hanno la giusta determinazione, il giusto atteggiamento, tutto è possibile, poi è chiaro che ci sono delle caratteristiche da rispettare, dei sacrifici che qualcuno dovrà fare maggiormente rispetto ad un sistema diverso, oggi è fondamentale pensare a domani, non a quello che accadrà, quindi io credo che molto, anche parlare di 4-2-3-1, 4-3-3, ormai credo che tutti la definiscano sistemi fluidi, per cui sarà l'abilità a volte anche del giocatore di leggere quelle che possono essere le situazioni, gli spazi liberi, e dove andare a posizionarsi, è chiaro che magari per caratteristiche lo può fare più uno rispetto ad altri, che avranno altri compiti, altre mansioni, però diciamo che non ci si discosta molto da quello che abbiamo sempre fatto, ci saranno delle indicazioni date a gente come magari Raffià, di poter andare ad occupare certi spazi in certi momenti e dovrà essere poi il giocatore a saper cogliere questi momenti.